Il 76% delle persone che hanno ricevuto una diagnosi di cancro ha più di 60 anni. L'invecchiamento dunque, nonostante si osservi anche un aumento di casi di tumore tra i giovani, resta il principale fattore di rischio per l'insorgere di neoplasia. E' partendo da questo dato che si è discusso del rapporto tra età e salute nel corso del forum scientifico New Frontiers in Cancer and Healthy Aging, organizzato da IPSA Foundation per la Ricerca Scientifica, in collaborazione con l'Università Federico II. Scienziati ed esperti sono intervenuti per promuovere una riflessione sulle molteplici connessioni tra cancro ed invecchiamento ed una maggiore consapevolezza sull'importanza degli stili di vita. L'evento rientra nel ciclo di incontri promossi dalla Fondazione Svizzera per diffondere gratuitamente cultura scientifica, come spiega la direttrice Silvia Misiti. Oggi siamo a Napoli per il 22esimo forum. Noi appunto in questi dieci anni ne abbiamo organizzati 22, abbiamo avuto oltre 170 speakers, relatori internazionali. Queste sono attività fondamentali perché appunto permettono in una giornata gratuitamente a tante persone di venire a sentire relatori che normalmente trovano distribuiti magari in un congresso di tre o quattro giorni. Un'opportunità speciale soprattutto per gli studenti, come spiega uno dei moderatori dell'incontro, il professor Domenico Salvatore, endocrinologo dell'Università Partenopea. È stato da parte dell'Università di Napoli un piacere collaborare nella realizzazione di questo forum che ha avuto un elevato impatto, soprattutto didattico, documentato dalla presenza di centinaia quasi di studenti che hanno assistito in presenza ed alcuni online a questa manifestazione.